La cosa più preziosa che hai nella vita non è la tua casa, la tua auto, non è nemmeno il tuo corpo, non sono i tuoi amici, non è il tuo denaro. Allora che cos'è la cosa più preziosa che hai nella vita? È la tua energia, è che non ne sei consapevole. Ti ripresenta che senza energia non vivi, non ti alzi la mattina, non puoi camminare, non puoi parlare, non puoi mangiare, non puoi nemmeno pisciare. Pertanto l'energia è tutto, ma l'essere umano non ne è consapevole. Come dialoga l'energia? Attraverso un dialogo analitico? Assolutamente no. L'energia dialoga attraverso simboli, numeri e metafore, in quanto l'energia dialoga attraverso il nostro inconscio, che è un dialogo totalmente energetico. Pertanto quando conosci quella persona non è che conosci quella persona perché la fortuna te la fa conoscere. No, è perché l'energia ti porta a conoscere quella persona. Pertanto tu sei risultato dei tuoi pensieri, delle tue emozioni, della tua energia. Incominciamo a dirlo, incominciamo a farlo. Anche il cibo è energia e purtroppo il cibo di oggi è energia sporca. Pertanto cibo sporco, persone sporche. Guardati quest'Italia come funziona, no? Com'è a livello energetico l'Italia? Che bisogna pagare anche per pisciare. Bisogna pagare anche per bere dell'acqua. Bisogna pagare qualsiasi cosa e attraverso la paura, attraverso il pathos, l'ipnosi, io controllo la tua energia e l'obiettivo è abbassarla. Quindi, quindi la paura abbassa la tua energia. Quindi la paura ti fa diventare matto. La paura è il più gran problema dell'umanità. Non sono le malattie, è la paura. Perché è la paura che ti uccide. È la paura che non ti dà la possibilità di usare il cervello inconscio alla velocità emozionale e trovare la soluzione. Quindi paura più etichetta di paura uguale falimento dell'uomo. Allora la domanda da porsi è, che cosa fai per proteggere la tua energia? Niente, perché non sai nemmeno che esiste. È invece la cosa più preziosa. Una persona che ha una buona energia, una persona che ha energia, vive di amore, apre il chakra del cuore, parla di cose positive. Perché una persona che invece ha un'energia sporca, si nutre di energia pulita, sporcando gli altri. Ecco che un vampiro energetico non è altro che quella persona che vuole, in sostanza, abbassare le frequenze di uno che è felice. L'Italia può cambiare in questo? No, il problema non è l'Italia, la politica. Il problema sono gli italiani che devono capire che sono dentro a un tranello. La cosa più preziosa che hai oggi, e il messaggio che ti voglio dare oggi, è che la cosa più preziosa che hai è l'energia. Vuoi fare i soldi? Energia pulita. Vuoi fare business? Energia pulita. Vuoi fare qualsiasi cosa? Dialoga con l'energia e all'energia associ che cosa? Numeri, simboli, metafore. E le cose cominciano a essere più semplici, ma devono esserci persone che cominciano ad amare l'energia, iniziando dalla loro. Perché se una donna non ama la sua energia, stagli distante. Se un uomo non ama la sua energia, stagli distante. Perché per vivere avrà bisogno della tua. Pertanto te la ciuccia. E tu che cosa fai? Rimani scarico. E non sai neanche il perché. Commenta il tuo pensiero, ma soprattutto divieni consapevole che l'energia è la cosa più preziosa e più potente che abbiamo nel mondo e nell'umanità. Cerchiamo di proteggerla.